Le persone sono attratte più da cosa stanno sbagliando ora che da cosa possono ottenere. E lo scopo è educare le persone sul perché acquistare. Questa è la fase più strategica del marketing, gli errori. Finora è sbagliato questo, devi fare quest'altro, è nel mente che gli insegno. Intanto spacco in due l'audience e loro dicono Ah, ecco perché, ah, oh, ecco cosa sbaglio, invece devo fare quest'altra roba, figo! Rendendole consapevoli degli errori che stanno facendo. Io vi consiglio tre, cinque o sette errori. Può essere anche un errore. Perché non pari? Perché, ragazzi, il dispari è da marchettaro ma funziona di più. Il numero di dispari attira sempre di più. Come il 7,9. Esatto, 7,9. Ma potresti anche metterli pari, funziona comunque. Io preferisco il dispari perché attira di più. Offrire valore nella tua presentazione non è abbastanza. Il tuo scopo è ispirare le persone ad agire, non solo contenuti a raffica, contenuti in modo strategico. E per farlo gli errori sono molto più potenti. Quindi l'obiettivo è mostrare tre, cinque, sette errori. Qui è dove risetti le credenze, installi quelle nuove mostrando la tua nuova speranza, è la parte in cui vuoi dedicare più tempo nella tua presentazione. Gli errori è la parte più lunga della presentazione. Gli errori sono quelli più importanti. Ok? Ogni errore apre un problema che si risolve con i segreti ma soprattutto con la tua offerta. Quindi qual è il processo per trovare gli errori? Uno, esamina tutto ciò che fai o fai il tuo prodotto o servizio per il cliente che possono essere posizionati come soluzione ad errori specifici. Per esempio nel marketing programmatico un'offerta che io insegno appunto è pre-vendere prima di creare. Il problema di molte persone che si bloccano nel creare prodotti e vendere sul mercato è che prima pensano di doverli creare. Anche fisici. Elon Musk ha pre-venduto una Tesla due anni prima e invece la soluzione, e qui è sbagliato perché tu crei una cosa sulle tue ipotesi e poi non la vendi perché non è quello che vuoi il mercato e anche perché non l'ha acquistata. Oltre che non funziona perché non l'hai fatta con loro. Quindi cosa ti dico? Questa cosa costerà 10, usa l'offerta compromesso. Ecco perché non l'ha mai venduto, perché non è stata l'offerta compromesso. Crei prima di vendere, invece devi vendere prima di creare. E questo lo chiamo offerta compromesso. Ti faccio un esempio. Un anno fa ho pre-venduto un CRM incassando 200.000 euro, vendendo un'offerta praticamente ridicola rispetto a quello che lo pagano gli altri, ma in cambio lo faccio insieme ai primi della cerchia dei fondatori. Quindi cosa ho fatto? Errore, cosa devi fare e riprova. Errore, cosa e riprova. Quindi errore 1, traffico. Il classico errore di traffico. Quando parlo di contenuti, vedi, io lo chiamo l'errore del riso. Vedi, quando si tratta di creare traffico, molti scelgono di piantare la piantazione di riso. Cosa vuol dire? Immagina di volere un piatto di riso. Hai due opzioni, cosa fai? Compri una piantazione di riso, ti metti a coltivarla per mesi o quanto ci vuole e poi dopo raccogli e ti fai il piatto di riso o vai sul supermercato sotto casa e compri il riso? Quali dei due? Ok, quando si tratta di traffico tutti scelgono di coltivare la piantazione di riso. Cosa fanno? Vanno sui social e semiano, semiano, semiano per mesi, 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 così che quando è ora di mangiare si è morto di fame. Oppure c'è un metodo semplice che ti permette di comprare traffico dove già c'è traffico come vai al supermercato a comprare il riso. Qualcuno l'ha prodotto per te che è lo zio Mark, lo zio Larry Page. L'hanno già creato per te, se non fatti il mazzo così e te lo vendono. Pronto, pronto lì per te. Giusto? Quale delle due? Ovviamente devi sapere come comprarlo. E qui te lo dico nell'errore 5 o nel segreto 1. Prima passiamo all'errore numero 2. Ho fatto errore, cosa, riprova, qui come riprova ho usato una metafora. Oppure posso mettere anche degli screenshot di me che compro il traffico che da zero, comprando il traffico, abbiamo fatto milioni di euro. Senza un soldo in tasca comunque abbiamo fatto milioni di euro. Ovviamente è perché vendo un sistema di marketing a risposta diretta. Ovvero, compro traffico, vendo. Mi ripago il traffico, compro ancora più traffico, vendo, compro ancora più traffico, vendo. Questo è il mio sistema, è il modello di marketing a risposta diretta. Se voglio vendere questo, prima farò bene a dirgli smetti di creare contenuti gratuiti e come lo faccio? E-C-R. Quindi spezzo un'abiezione sul fatto, sì ma io vedo tutti gli altri che creano contenuti gratuiti, come mai? Te lo spezzi in questo modo. E quindi non vorrai più creare contenuti gratuiti ma vorrai un sistema come il mio che da zero mi ha fatto fare milioni, che usiamo ancora oggi e ti permette di... Una delle cose che inseriamo nella masterclass è il metodo splash. Errore, pensare che su Facebook basti una sola pubblicità, cosa devi fare invece? Pubblicarne tante. È un po' come... E uso la metafora. È un po' come tirare un sacco di roba al muro e vedere cosa rimane appiccicato. Dalle metafore molte volte, dalla riprova quindi, viene fuori il nome dell'errore o del meccanismo. Passo 2. Torno alla ricerca di mercato e cerco obiezioni e false credenze che tu risolvi e elimini con la tua offerta. Quindi, esempio, errore, cadere nella trappola del traffico a pagamento. E questo è l'esempio che vi ho fatto. Un sistema che si ripaga da solo. Quindi non è un problema di traffico, un problema di conversione. Non è che uno il traffico lo compra. Se oggi è TikTok, domani sarà, che ne so, Pippo, la piattaforma Pippo. Lo compro il traffico. C'è una piattaforma che crea le piantagioni per venderti il riso. Quindi perché, a meno che il mio modello non è quello, perché devo io crearmi le piantagioni all'inizio perlomeno? Ma prima lo faccio per me. Quante persone, quante aziende prima hanno iniziato a rivendere prodotti di altri, poi hanno creato il loro brand perché avevano i soldi per farlo? Adesso lo stiamo facendo anche noi. Creiamo la piantagione nei social. Ma è un lavoro a lungo termine che costa un sacco di soldi. Giusto? Quindi la prima cosa che faccio è marketing e risposta diretta. Un ritorno diretto che tutti i nostri clienti qui dentro utilizzano. Passo 3. Inserisci nel brainstorming degli errori gli elementi della tua lista delle nuove abitudini del cliente da installare. E gli vendo il primo errore. E questo è quello che io chiamo comportamentale. Quindi cosa fa il cliente di solito, non a livello tecnico, ma cosa fa il cliente che diventa un'obiezione per voi? Per esempio concessionare. Pensare che devi andare per forza in una tua concessionaria nel raggio di 20 km per trovare l'auto migliore. Pensaci bene. La tua auto resta raccontare le statistiche che dicono su 5-7 anni. Le sto inventando. 5-7 anni. Quindi tu per 5-7 anni non vuoi fare 300 km per prendere una macchina. Ti durerà molto di più, che ti piace, ti fa sentire bene con te stesso e ti permette di, qualunque cosa sia. Così vendo alle persone da lontano di venire da me perché magari hanno l'obiezione che è troppo lontano. Oppure le persone vogliono andare in paradiso ma non vogliono morire. Se tu vuoi fare un milione devi avere un team. Errore. Non volere un team. No, devi avere un team. Come fai a fare un milione senza avere un team? Quindi questo è proprio attitudinale. Capite cosa intendo? Poi ci sono quelli tecnici che sono sul meccanismo, su come funziona il prodotto. Vendo il Kirby, avere un prodotto che costa di meno ma che ti fa solo una funzione. Questo è tecnico sul meccanismo. Kirby ha tutto, giusto? No, non, 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 non Grazie a tutti.